il morto numero 59 l'ora della verità non c'è che dire il nostro vendicatore mascherato torna con una gran bella storia agente alfa bentornati sul canale come dicevo nell'intro il morto ritorna con questa sua cadenza bimestrale e lo fa con una storia veramente molto molto interessante a dire il vero faccio subito una premessa questa storia è chiaramente la seconda parte di ciò che abbiamo visto nel numero 58 e devo dire che per avere una lettura veramente comprensibile e completa nonostante qui ci sia riassunto è molto meglio recuperare entrambi gli armi in questo caso secondo me ne vale la pena perché questa doppia storia in pratica è un insieme di intrecci di vicende familiare politiche e anche di commercio di armi insomma traffici clandestini politica che riguarda la dittatura argentina c'è veramente tantissima carne al fuoco secondo me come sempre si cade in qualche ingenuità sia dal punto della sceneggiatura sia dal punto di vista grafico però l'insieme ci restituisce una storia veramente molto molto interessante comunque non fare un video lunghissimo perché voglio parlarvi soprattutto della sostanza ecco di questa storia ma vi dico comunque chi si è occupato di questo numero allora abbiamo soggetto sceneggiatura come sempre di ruvo giovacca mattite di luca bonardi e davide celletti luca bonardi è quello che talvolta troviamo su alan ford kine vasco gioachini come spesso accade la copertina e a cura del del mitico paolo telloni poi alla fine c'è la consueta storia breve che ormai troviamo sempre sulle pagine del morto intitolata malum testo disegni di angelo feltrin una storia carina ambientata in un mondo post apocalittico con con degli alieni che sbarcano sul nostro pianeta poi si spogliano delle tute come a riniziare una civiltà ma alla fine poi ricadono gli stessi errori ecco dell'homo sapiens quindi la storia solite storie un po metaforica che vengono incluse alla fine del morto che spesso lasciano indifferenti ma qualche volta una chicchetta ecco la possiamo trovare dicevo che in questa storia si lecciano molto le vicende della dittatura argentina dei desaparicidos dell'attualità legata al traffico di armi a un grande inganno familiare ai danni di una donna e la sua sua figlia diciamo che l'ingenuità di questa storia è che già nel numero scorso praticamente il morto si trova in questa situazione casualmente cioè proprio casualmente passando qui in liguria fra l'altro incontra un suo vecchio amico che gli dicevo guarda pensavo di già che ci sei pensavo di coinvolgerti in questa situazione per cui il morto si trova comunque in questa complessissima vicenda e si trova a collaborare comunque con con delle persone che appunto sono alla ricerca di una figlia scomparsa poi la signora che sta cercando questa figlia scomparsa in realtà è una signora argentina che fu ritenuta morta dai suoi guzzini in realtà dopo tanti anni è riuscita a ritracciare la figlia vuole rincontrare vuole incontrare la nipote la figlia in realtà viene prima segregata in una clinica perché il padre non vuole che sposi un determinato individuo poi il morto allora la va a liberare si scopre che comunque le attività del morto sono parallele a questa donna che vuole ritrovare la figlia insomma una vicenda abbastanza complessa legata appunto anche al mondo dell'argentina alla doppia faccia di un imprenditore che ha adottato appunto la figlia e segue anche la nipote una storia molto complessa che raccontarla così è anche abbastanza difficile probabilmente vi ho anche confuso le idee però insomma vorrei consigliarvi davvero di leggerli entrambi perché sì ok qui c'è riassunto però innanzitutto è passato davvero troppo tempo tra un numero e l'altro e storie come queste fanno impazzire perché prima di riuscire a comprendere bene dove eravamo rimasti sì ok c'è riassunto ma io ho dovuto proprio fare mente locale per cercare di ricordarmi i personaggi coinvolti un po perché spesso hanno dei nomi italiani anche abbastanza banali che non rimangono in mente quindi bisogna anche un po rinodare i fili poi ci sono delle situazioni non dico grottesche ma sono proprio molto ingenue non è possibile che capitino tutte al nostro protagonista cioè che ogni volta che lui mette il piede fuori di casa di succede qualcosa secondo me dovrebbe esserci una base un pochino più costruita e forse questo succede perché perché il nostro morto non ha un vero antagonista e quindi quando si trova così a vivere avventure di vita normale quotidiana inevitabilmente la miccia per far partire la storia spesso e volentieri deve essere casuale o comunque un imbattersi in qualche cosa che rispetto all'inizio dove c'era un filo logico io lo sto rileggendo dall'inizio no mentre all'inizio c'era una sorta di filo logico e anche l'evoluzione della sua vita aveva una certa cronologia perché lui piano piano ritrovava dei familiari piano piano metteva a posto qualche tassale della sua memoria e lui in questo percorso a ritroso comunque andava a mettere un po ordine in quella che è stata la sua esistenza quelle avventure nascono un po dalla sera alla mattina nel senso che a volte è vero che lui è ossessionato dal ricercare il suo passato però in qualche numero ecco quella rimane la scintilla per qualche avvenimento ma in questo caso secondo me lui si trovava in liguria e liguria casualmente gli è successa questa cosa cioè non è stato un percorso secondo me di ricerca sua personale di qualcosa ci si è trovato in mezzo come spesso gli è capitato devo dire che qui ho trovato un paio di stralci della mia genova mi fa sempre piacere vedere la mia città sui fumetti e diciamo le tavole sono un po reinterpretate perché non sono proprio fedelissimi come mi è capitato ad esempio di vedere in giulia ma già ad esempio tanti anni fa su diabolic fu rappresentata genova senza probabilmente esplicitarla con qualche variante ecco rispetto alla realtà qui più o meno succede la stessa cosa ci sono degli sfondi largamente ispirati al 70 all'80 per cento della realtà ma poi nel dettaglio si si sa soprattutto per chi ci abita che oggettivamente qualche scenario è un po diverso comunque sempre bello vedere genova su un fumetto io probabilmente vi ho un po confuso le idee ma questa trama oggettivamente è complessa bisogna leggerla e secondo me ne vale la pena se si supera lo scoglio di dire ma insomma com'è possibile che a che a peg accada tutto no all'improvviso così ecco se si lascia un po da parte lo stupore ecco per queste vicende così sempre un po surreali poi quello che si sviluppa dopo è molto molto interessante perché qui sono io ho calcolato che ci sono almeno tre filoni che si vanno a intrecciare in questa doppia storia il che non è male perché poi hanno tutte una certa coerenza narrativa si incastrano bene raccontata bene devo dire ho trovato un paio di ingenuità una dal punto di vista del disegno che c'è un camion che sembra che che sia sospeso per aria è veramente una scena molto particolare c'è una prospettiva che l'ho fatta anche a vedere più persone per capire se era la mia impressione ma oggettivamente c'è una tavola che dove c'è un camion che sembra sospeso a mezz'aria e non appoggiato per terra diciamo in strada e poi un'altra cosa nei testi dove si fa riassunto parlando di una certa amelia che è una dei protagonisti dell'albo la riga dopo viene chiamata amalia e le due parole sono proprio una sopra l'altra quindi una svista abbastanza clamorosa visto che sono una sopra l'altra è proprio difficile ecco sbagliarsi in questo ma probabilmente nel morto abbiamo sempre trovato qualcosa anche sebi di recensioni scarse allora e oggi collezionista di libri si divertiva trovare spesso qualche refuso qualche ingenuità sul morto comunque resta secondo me un fumetto di qualità devo dire che se fosse mensile sarebbe tutt'altra cosa sarebbe tutt'altra cosa si potrebbe seguire meglio e secondo me sarebbe un pochino più sulla bocca di tutti perché comunque il fumetto è valido già si trova poco poi quando si trova comunque è distribuito male non per colpa della casa editrice chiaramente ma di questo sistema malato della distribuzione e quindi viene un postico ecco proprio reperirlo soprattutto nelle città minori e comunque anche qui da me non è che proprio in tutte le edicole c'è appena ci si allontana dal centro non lo si trova più quindi per dire è un grosso peccato però è un fumetto che vale e non mi stancherò mai di dirlo qualche passaggio vuoto c'è stato fra tutti quelli che ho letto però devo dire che negli anni la qualità è andata aumentando sia dal punto di vista delle storie che dal punto di vista dei disegni e ogni uscita del morto noi dobbiamo insistere su questi concetti perché è un fumetto molto molto valido sicuramente molto più realistico e impregnato nella realtà rispetto all'unico pocket inedito che esce in edicola oggi che è diabolic non si può parlare di concorrenza fra i due fumetti sarebbe un'eresia però comunque è molto più realistico e attenente alla realtà questo rispetto a diabolic che è rimasto un po' ingessato nel suo tempo e nella sua dimensione ecco di ladro geniale e affascinante comunque per oggi finiamo qui vi invito ancora una volta a recuperare il morto perché è veramente una testata che vale peraltro adesso la miniera sta continuando a ristampare le storie in una elegantissima edizione a tre a tre nel senso che ogni volumone contiene tre albi io sono arrivato al terzo se riesco e faccio un tempo comprerò anche il quarto mi piace leggere le storie nuovamente in ordine cronologico e che dire sosteniamo la meniera perché ci regala sempre dei prodotti di nicchia molto particolari che al giorno d'oggi è veramente difficile trovare in edicola quindi buon morto a tutti e lasciate un commento se state continuando a leggere questa interessantissima testata al prossimo video